Io voglio semplicemente spiegarvi perché il ponte della musica, intanto perché è un ponte e noi vogliamo in questo modo simboleggiare con grande chiarezza cosa vogliamo fare in questa città, cioè vogliamo fare in modo che le tante parti, le tante ferite, i tanti strappi che esistono in questo momento nella nostra città possano essere invece ricuciti, che quel ponte possa diventare un ponte dove le persone si incontrano, dove le persone si integrano, dove le persone si scambiano idee sul futuro, dove le persone più semplicemente possano tornare a sentirsi orgogliosamente parte di una comunità, ma quel ponte è anche il simbolo delle cose positive che si possono fare in questa città.